Sauro Marinelli, lei è l'ultimo pescatore del passetto. Cosa si prova ad essere davvero l'unico, l'ultimo dei rimasti? Insomma, resiste? Eh, certo. Il passetto cos'è per lei? Eh, la vita, ormai sono nato. Fa questo mestiere da tanto, tra l'altro. Esatto. Oggi che ha pescato? È poco. È un'umbrina, una curvina e due cefale. E questa è Michele II? Sì. La barca che l'accompagna da sempre? Sì, esatto.